In attesa dell'udienza al Tar del Lazio, in programma domani, la FIGC si è ieri aggiudicata un round importante al Collegio di Garanzia del CONI. La Corte Sportiva ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso della spalla e respinto quelli di Alcione e Fano. Tutte e tre le società avevano fatto appello contro le graduatorie dei ripescaggi e delle riammissioni decise da Via Allegri a seguito delle relazioni di Coviso che commissiona criteri infrastrutturali. Dopo le sentenze contro Reggina e Lecco potrebbero pertanto liberarsi due posti nel campionato di Serie B e di conseguenza anche in quello di Lega Pro. Secondo la FIGC le griglie sono Brescia e Perugia che precedono Spalla e Benevento per la B, Casertana e Piacenza per la C. Nel frattempo i club di Serie B hanno espresso unanimamente la volontà di rispettare il Vial del campionato il 19 agosto con l'Open Day previsto il giorno prima e il format confermato a 20 squadre. propositi ai quali soltanto la decisione del Consiglio di Stato prevista per il 29 agosto salvo anticipi come richiesto dalla FIGC potrà dare una risposta definitiva unitamente alle squadre che saranno ripescate, riammesse o cancellate definitivamente dalla mappa del professionismo. Il Tribunale di Stato e lo porteremo avanti fino al Consiglio di Stato. Quindi adesso andiamo